Nuova puntata e come vedete la puntata del resoconto di oggi praticamente verte su una notizia sola perché poi alla fine non ci sono notizie rilevanti sia a livello americano che a livello europeo per quanto riguarda le aziende invece per quanto riguarda le notizie economiche oggi ha tenuto banco il taglio dei tassi della bc dello 0,5 ormai diciamo che lo sapevano anche i muri era più che atteso lo sapevano tutti che ormai il taglio dei tassi era alle porte e così è stato salvo di imprevisti di guerre mondiali all'ultimo momento a parte gli scherzi tutto come previsto invece la cosa interessante era dal mio punto di vista sapere quello poi alla fine che avrebbe detto Christine Lagarde nella conferenza stampa post chiaramente decisione ebbene ci sono stati dei punti interessanti molto interessanti il primo sicuramente è stato che la Lagarde ha tenuto ci ha tenuto a sottolineare che la decisione del taglio dei tassi non è stata votata all'unanimità e non solo ha detto questo ha detto pure che un membro si è opposto tutti diciamo hanno puntato il dito sull'austriaco Holzmann questi austriaci dico io che ci vogliamo fare non solo altri passaggi di rilievo diciamo così che a causa degli effetti legati all'energia diciamo che l'obiettivo della BCE cioè del 2% dovrebbe essere rimandato all'anno prossimo diciamo che queste previsioni fatte a sei mesi un anno lasciano il tempo che trovano visto che qua le cose cambiano da un giorno all'altro interessante è la motivazione che ha dato la Lagarde del perché dovrebbe scendere l'economia e praticamente dovrebbe perché dovrebbero chiaramente scendere l'inflazione perché dovrebbe scendere l'economia e quindi è davvero molto interessante tra l'altro ha aggiunto vediamo la crescita dei salari in un percorso discendente soprattutto nel corso del 2025 io ripeto il discorso che ho fatto prima cioè questi non sanno che mangiano domani fanno le previsioni al 2025 mi viene da ridere certe volte però diciamo che la cosa interessante è il fatto che non è stata votata all'unanimità e questo la dice lunga secondo me sul fatto che ci potrebbero essere ulteriori difficoltà per altri tagli perché diciamo che tutti davano questi tagli dei tassi come una decisione unanime dell'ABC e invece sapendo questo c'è qualcuno che vuole mettere il bastone fra le ruote diciamo che poi ha anche parlato di stime di inflazione per quest'anno si passa dal 2,5 si passa al 2,5 dal 2,3 stimato in precedenza e invece per quanto riguarda il 2025 si passa al 2,2 rispetto al 2 stimato in precedenza e anche qui secondo me la dice lunga sul fatto che i tagli, il prossimo taglio non potrebbe essere a brevissimo quindi questa situazione qui è una situazione che secondo me va tenuta sott'occhio perché bene il taglio dei tassi non tanto bene il fatto che vedendo l'inflazione a rialzo la vedo di proprio difficile un altro taglio dei tassi a breve ragazzi con questo è proprio tutto ci sentiamo domani sicuramente con tante altre notizie più non solo sulla questione economica ma anche su un po' di aziende quindi non solo sulle notizie economiche ma anche sulle aziende ragazzi con questo è tutto vi ricordo come al solito il sito giuseppecioscia.com e che a breve e beh parleremo anche del mio libro che tra poco uscirà ragazzi con questo è tutto alla prossima e vi ricordo che come sempre siete sotto il fuoco nemico